CREVONA CIRQUIT Il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate 3.700 metri di pista, 6 curve a destra e 7 a sinistra Un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica Le qualifiche mi aspettavo meglio, nel senso che ieri ho fatto un tempo discreto Oggi volevo migliorarmi ma al mattino non sono riuscito Vedremo la gara, ho l'obiettivo di recuperare in gara Io sono più pilota da gara che da qualifica CREVONA CIRQUIT CREVONA CIRQUIT Mamma mia, De Vecchi tenta un sorpasso bellissimo Che gli riesce anche alle spalle di Matteo Crosetti CREVONA CIRQUIT CREVONA CIRQUIT CREVONA CIRQUIT CREVONA CIRQUIT CREVONA CIRQUIT CREVONA CIRQUIT Sono autori che si assistono a vivere una gara in solitaria Le due dei vecchi scavalcamoggio per la quattordicesima, anzi quindicesima piazza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti